Ciao ragazze, quante volte abbiamo la sensazione di stanchezza, di mancanza di energia, di apatia, di mancanza anche di visione chiara di quello che siamo, di cosa vogliamo fare, se abbiamo realizzato le nostre passioni. Spesso entriamo un po' in questo loop, ma può trattarsi semplicemente di stress cronico, di stress ossidativo, di infiammazione cronica assilente, perciò siccome mi sono risultati davvero utili, li ho inseriti anche nel libro, forse in qualche modo li avete già visti, ho deciso di mettere a vostra disposizione dei test davvero semplici che ci indicano se uno di questi tre aspetti in qualche modo ci interessa, così da avere un approccio molto specifico. Perciò non dovete fare altro che cliccare sul link e scaricare i test, sono gratuiti e senz'altro vi daranno delle dritte, quindi vi indicheranno come tornare in forma. Quando parlo di stato di forma, con un approccio olistico ovviamente non parliamo solo di essere in forma in termini di silhouette, ma di benessere generale. Un abbraccio e alla prossima!